Sentite queste parole, è un canto che diventa anche preghiera, sentite, diventa preghiera, però questa è preghiera, sentite le parole. Tutti fuori, le mani al cielo, le mani al cielo, tutti dietro, Martina tutti dietro, le mani arti in alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.